Ehm, ciao! Oggi siamo trovati in un nuovissimo video su Minecraft E questo oggi abbiamo di fronte a noi due isole Così siamo distanti perché ci ha capito la tua puzza, il tuo fetore Lo voglio sentire il più lontano possibile E il nostro obiettivo sarà quello di scambiare con i villager all'interno di queste due isole E combattere, ma non con le armi questa volta Con delle frecce personalizzate Che ci venderanno i signori villager E ti posso dire che sono molto belli Ma non perdiamo tempo Vai, cliccalo tu Come i bimbi piccoli Wow, guarda, ci stiamo muovendo da soli Ma che magia C'è anche un timer Visto, il timer è quando noi iniziamo Allora, non hai frecce, non hai alcun tipo di frecce Quindi vai dal villager Come vedi, queste frecce sono tutte personalizzate Ognuno ha un effetto particolare E io devo uccidersi soltanto una volta Perché una volta e sei fuori Proprio morto, capputo, ciao Quindi, allora, allora, allora Mi sembra arrivata a me questa cosa comunque Allora, in realtà, non so bene cosa utilizzare perché ce ne sono un sacco Però io vado subito Cosa vuoi fare? Trasferirti in questa campagna? Sì, è così Una campagna Sembra campagna questa No, sei tu che vivi in montagna In campagna, scusami Tu invece vuoi andare in montagna Molto... No, aspetta, sono confuso Sì, tu vivi in campagna e vuoi andare in montagna Io non vivo in campagna Ma sì, è in campagna che vi smetti di dire che vivi in montagna Non è vero Comunque c'è le cose che le dà già co a te È vero, è bello questa cosa Visto, è incredibile Però mi sa che devo farmi il piccone perché Mannaggia, mannaggia, il piccone in ferro non c'è Quindi mi spacco un pezzettino di casa Allora, questo sembra carino Quindi mi serve la Reston Poi oltre a Reston mi serve... Io posso già spararti le cose? Se vuoi sì Cioè, nessuno te lo impedisce Quindi come preferisci Tu sei dove la gavel? No, in realtà Però penso sia sparsa nella montagna Essendo che è una montagna Però voglio testare una cosa Per la patria Capito? Cioè, non c'è glowing, dannazione Quindi se sei in mezzo ai blocchi Non posso vederti Ma non c'è problema Perché ci sono frecce anche per questa occasione Guarda In che senso? Te ne faccio vedere una Te ne faccio vedere una proprio Sì Te ne faccio vedere una proprio in questo momento Guarda, praticamente io faccio così Tu sei lì dentro Io faccio... Ma io ho solo una freccia a disposizione Ogni... Oh che cavolo Ma hai distrutto tutta l'isola Oddio mi dispiace Oddio mi dispiace Ah! Dov'è la meteora? Non è successo nulla Vabbè, va benissimo Che bella Va benissimo Ti metto a distrutto intanto un po' di isola così Giusto per ridere Il villager è immortale Però può semplicemente sprofondare nell'ignoto Quello può farlo Quindi nel dubbio stai attento Perché potresti non vederle più il tuo villager Comunque 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 Allora Quale tecnica pensi ad operare? Nel senso Ti faccio sbagliare la casa Direttamente Vabbè, quello non ti dà grandi vantaggi Però Come no? Però per esempio Potresti camperarti in miniera Cioè Potresti pensare Adesso mi campero in miniera Così le frecce non mi fanno niente Guarda, mi vedi Nico Sono di fronte a te Sì, vedo il tuo brutto nome rosso Red Logo Locis Che poi Vorrei fare un appello al creatore di questa marca Di questa marca Di questa mappa Di questa mappa Ovvero Yelke Non c'è il team verde Lo sai di stato Yelke? È uno di mappe più bravi di Minecraft Assolutamente no È uno dei miei preferiti È uno dei miei preferiti È uno dei miei preferiti Le sue paradisi parkour I droghi sono bellissimi Di te a Yelke di bannare Vabbè, ho capito Volevo soltanto Degli mettere un team verde Non ho Cioè non volevo Vabbè Ok Dove sei Nico? In realtà Yelke Io voglio bene Non so se fare l'armatura conviene Sai? Tipo l'armatura Mi stai lanciando frecce per caso? No Cosa devo far credere? Mi è esploso qualcosa vicino Non lo so Ma che frecce stai lanciando? Scusami TNT Vabbè ma che schifo Le TNT Loco Ma vai così scarso? Cioè non vai con qualcosa di più Potente Ti sto sotterrando il tuo amico No Come? Bro Vediamo cosa me ne faccio Dei diamanti Dei diamanti puoi Penso farti l'armatura A questo punto Perché ho visto che Non puoi scambiarci nulla Quindi sai che te dico Grazie che me l'hai fatto notare Che mi faccio l'armatura Visto che ho Una fracca di diamanti Quindi allora facciamoci Il corpetto E il gambale Ok Per ora dovrebbero bastarci Non può morire il mio amico Ok Porca miseria No 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 Tento lo so per te Eh lo so Ho trattato la gravel Grazie 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 Molto gentile In arrivo un'altra freccia Io ho un'idea migliore Allora il tuo villager è lì no? Facciamo così Facciamo così Così No 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 Ok E poi lo facciamo cadere Ancora un pochino Ma che freccia stai usando? Che freccia sto usando io? Oddio Che freccia sto usando? Non lo so Ce lo sto chiedendo infatti Non lo so Che freccia sto usando? Dai là Creeper Guarda Aaaaaaah Posso fare Cosa preferire? Questo direi Questo qua direi che è meglio Sì 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 Vediamo tutto Allora Where are you? I'm I'm not here Facciamo così I'm Non ha funzionato Mi sa che funziona solo così Ok 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 Ho capito come funziona Ho capito come funziona questa freccia Diciamo che c'è una particolarità Che forse Loco non conosce Alcune frecce Funzionano solo se Vengono impattate con un player Tipo così No 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 Vabbè Nel senso Ci sta in fondo Puoi averla rivincita Se ti va Cioè Hai fatto schifo Nel caso non l'avessi capito Io stavo giocando Tu sei tragiardato come Io ho fatto semplicemente una freccia Dai vieni qua Cambiamo mappa Ti faccio scegliere te la mappa Magari sei più confident Abbiamo ghiaccio Tulipani Giungla Deserto Scoglier Cos'è? I tulipani vuoi giocare? La giungla vuoi giocare? O il ghiaccio vuoi giocare? No il ghiaccio non mi piace Ghiaccio Vabbè Vabbè Ha fatto tutto lui Va bene Allora 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 Vediamo se questa volta Ti studio una tecnica Sì l'hai detto anche l'altra volta L'hai detto anche l'altra volta Tu non l'hai capito Guarda che carino il video C'è un cappellino blu Tu non l'hai capito nulla Io non ho capito nulla Mi sa che tu non hai capito bene Come si gioca Perché cioè Hai perso Brutalmente Che cosa hai da ridire? Oh È qua che si entra in miniera Ok Che cosa hai da ridire? Tu non l'hai capito nulla Cosa non ho capito? Dimmi Ti distruggo Ah e qual è la tua tecnica questa volta? È tipo la stessa dell'altra volta? O no? No perché c'è l'altra volta Non è che sei stato un grande Un grande stratega eh È la stessa? No Tu stai Zitto di stare zitto No Ti stai arrabbiando Ti sto facendo scaldare No l'ho sentito Che eri un po' arrabbiato però eh Non sono solamente concentrato Ho sentito la furezza La tua furezza Stai attento perché forse Potrei avere delle altre frecce Quei creeper a breve eh Cioè perché sono Molto potenti Ho notato Sì 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 Cioè non te l'aspettavo Inverniente Mi aspettavo che tu fossi un pagliaccio Eh sì 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 Popi popi Faccio ogni tanto nel tempo libero Soltanto però nel tempo libero E nel resto del tempo no Allora Piccone in ferro L'abbiamo già fatto Quindi non perdiamo tempo E andiamo subito in miniera A raccogliere i diamanti Come si torna su? Eh c'è una Cascata che devi tipo prendere Comunque volevo dirti Che la tecnica che mi hai suggerito tu È quella che mi ha fatto vincere Perché la mia tecnica Non me la copiare per favore Perché altrimenti mi arrabbio È stata quella di distruggerti Tutto sopra il villager Così che quando tu andassi a scambiare Ti facevo O cadere la tiennetta in testa O esplodere cose E capito Mi ha tolto mezza vita Mi ha fatto male questo fulmine Devo dire la verità Mi Sono onesto Perché mi rigenerai Tappi che la mia Ascesa appena è iniziata Ah sì Quindi dovrebbe Dovrebbe Quindi dovrei tipo Tremare Dovrei tipo avere paura Facciamoci anche il caschetto in diamante Scusami signor Kendall Ma qua bisogna proteggersi Dal signor Loco Lachis Facciamo che faccio anche questo Ma che cosa sta succedendo Cos'è Oh signore Cos'è Cosa sta succedendo Loco Sì TNT Ah vabbè Ok pensavo fosse chissà che cosa TNT Rain Ma che ci frega Ma che ci importa Dai Loco Ma non Basta Ti ho detto di non copiarmi la tecnica No no io ti Non voglio suggerire Tu voglio suggerire Direttamente Sì ma basta Non usare solo un tipo di frecce Ma scusa Non ho preso tanto E ho preso solo red Sto nella mia vita Sto ragazzo Niente Sto ragazzo È da punire È da punire Ok Magari prova anche le altre Senza usare sempre le stesse Che dici Che dici Che dici Siccome sei scarso Vada che adesso mi tiro Di creeper Blaze Vuoi un po' di Blaze Mi han detto Non lo so Mi hanno mandato un fax Vai Blaze Colpiscilo Colpiscilo Quando meno se l'aspetta Così che voi Ho finito già le frecce In realtà me lo sto aspettando Cioè me lo sto aspettando anche tanto Sinceramente Eh ma ho finito già le frecce Quindi sei pur tranquillo Che al momento Non ho Alcun tipo di Per cui adesso arrivano i miei creeper No 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 Dai creeper no Mi faccio un sacco di queste Va bene va bene Vediamo il migliore Allora gli spacco tutta l'isola E così non mi rompo più le scato Tipo così E poi così E Ma perché il Blaze sta colpendo me Ok Il villaggio nella lava Così non credo tu possa scambiarne la lava Quelle non puoi craftare Scusa loco non è il momento Allora Oh la lava brucia loco Brucia la lava Fammi sapere Cosa stai craftando loco Cosa stai craftando No perché non lo vedo io eh Guarda che mi sa che C'è un bug C'è un bugs Banni Questo invece potrebbe essere carino Effettivamente Non l'ho mai provata questa freccia Ok ti ho visto Ti ho visto Basta fare così Ma quante crafting hai loco Tutto meglio che avevi Vabbè dai ma non è possibile Perché hai fatto tutte queste crafting È l'unica cosa che avevo Ho capito ma Non è che ti siano tanto utili Innaggia a te Eh no Ma ti devo spaccare tutta l'isola Per colpirti Non so manco dove tu sia Eh io so dove sei tu Però Cioè Cioè Non so Te sto a spaccà Oddio Eh l'acqua fa male Sei scarso Avevo 8 TNT Creeper 14 TNT Triple Sei scarso Se vuoi ti do l'ultima Ma Cioè davvero sei scarsissimo Però io la spildranno l'ultima Te lo dico Anzi c'è il guido della mappa Ma io cosa Ne so che se cadi in acqua Ma se cadi fuori da un'arena Cosa succede Scusa secondo te Vai facciamo l'ultima spildrannata Ti giuro eh Ti focusso subito Con tutto quello che ho Allora Diciamo che questa Mi ha salvato la vita In più occasioni Quindi meglio riproporla Per una nuova volta Mannaggia Non riesco a farmi full Purtroppo Perché mi manca Un diamonds Ma già inizi Ma aspetta un attimo Scusa Cioè già mi vuoi fare esplod... Cosa stai facendo? Il villager immagino No 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 Sia mai Che mi fai... Eh vabbè Povero il villager No Dov'è il villager? Dov'è spaventato? È caldo fuori dall'arena In questo caso Non so cosa bisogna fare Ah in questo caso Sei perso mi sa In questo caso Spero responi Perché altrimenti Non è molto corretta Come cosa Non respona? Non respona mi sonico Eh ma non è giusto Lo tipo sopra Dai no Lo tipo sopra Poverino Cioè nel senso Lo provati Pallo se riesci Ok Ne ho portato uno sopra Spero di aver preso il mio Non il tuo Allora Allora Facciamo così E Oh porca miseria La lava? Perché c'è della lava? Oh ma la smetti Ma quante frecce ti sei fatto? Non lo so Ma porca miseria Ancora qualcuno se vuoi No Preferirei di no in realtà Allora non ho Sono messo male Non ho quello che mi serve Allora Va bene Giochiamo di strategia Dato che tu sei un po' infame Giochiamo entrambi di Infameria Ma tu dove sei esattamente? Ah ma sei lì te E posso vivere un'altra isola? No No credo tu non possa davvero Quindi non farlo Non posso Anche perché se cadi nell'acqua Poi mi dici E io ti dico Cioè bro Mi dispiace Sei caduto nell'acqua Intanto usiamo queste Direi sì Direi che è il momento di Adesso vi ho fatto una stupidata Basta Me ne vado I zombie fanno schifo Eh eh Mi dispiace Hai fatto la scelta sbagliata Ma spacca anche l'isola Dove vado a fare l'altra redstone Facessi così? Ok 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 Ma perché il villager tu ce l'hai là fuori? Io non ce l'avevo là fuori Aia 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 It hurts Ah ma qua è precoloso It fa male It fa male Ok 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 Molto gu Ah Che è successo Nico? È caduta la lava in testa Mi sono spaventato Ma basta TNT Ma c'hai solo quelle Praticamente sì Ho preso solo redstone Ma non è molto giusta questa cosa Ma guarda che cade altra lava Ma cribio Ma cribio Ma voi Ma la smetti campiera sotto la lava Ma cosa devo fare se mi lanci di continuo le cose? Le frecce di TNT Usa qualcos'altro Ma guarda Ce la lavo ovunque Non posso uscire da qua praticamente Ah Sì Facciamo così anche noi Tuturururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Mezzo cuore? No. Ho perso il villager. Dov'è finito il mio villager? È caduto di nuovo fuori. Ah, no, è qua sotto. No, è caduto di nuovo fuori. Oh, questo villager lo odio. Il mio più grande problema è che io ho finito le risorse. E qui risorse non le trovo perché hai fatto esplodere letteralmente tutto. Quindi cosa posso raccogliere? Della redstone? Prendiamo della redstone. Può tornarci utile. Ma oltre a quella non trovo nient'altro. Loco, loco. Loco, loco. Mannaggia, loco. Allora, torniamo dal nostro amico Jeffrey. Eh, direi di fare... Che miseriaccia. Porca miseriaccia. Porca miseriaccia. Allora. Aia. Facciamo così. Almeno te ne vai un pochino giù anche tu. Ok, combattimento alla pari. Ti ho colpito per errore. Ti ho colpito nuovamente per errore. Va benissimo così. Rimani giù perché per piacere vorrei che tu fossi al mio... A livello terra. Grazie. Poi facciamo così. Guarda Jeffrey stai muovendo, Jeffrey. Sì, sì. Jeffrey è stato l'ultimo problema adesso. Ok, questo l'abbiamo fatto. Poi, oltre a questo, dobbiamo fare un attimino così perché non ti vedo più e non vorrei che tu sia finito. Cos'è questo suono? Se facessi così funziona? No, non funziona. Ah, cosa volevi fare? Pensavo di fare una cosa incredibile tipo la vittoria scontata bellissima invece l'ho sbagliata. La vittoria scontata. Eh, ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato. Apprezzo che tu abbia aspettato che io riprendessi Jeffrey per fare quello che stai per fare. Molto gentile, davvero. Prego. Potrei sapere la tua location? Oh, sei tornato in Aighe. Sei tornato in Aighe, ma le persone non stanno in alto per sempre. Sto sbagliando frecce, aspetta. Sto sbagliando frecce, aspetta. Sono destinate. No, assolutamente. Ho sbagliato lanciare frecce. Assolutamente. Non puoi fare questo. Rimani giù, il tuo posto è quello. Ok, dopo aver fatto questo direi che possiamo fare questo. Non ti ho preso, non ti ho preso da fermo. Boom. No. Niente, questo si sta a girare tutta l'isola. È il giro panoramico che stiamo a fa. Mi lasci stare un secondo? Ma non vorrei, vorrei fightare, vorrei finire questo livello. Aia. Ti prego, ti prego, ti prego. Oddio, sono supercarigati. No, non ci credo. Jeffrey! Oh, Jeff è diventato una strega. Ma che peccato. Povero Jeffrey, vabbè. GG. Se volete altri video di questa vita bellissima con altre persone. Ecco, magari 2v2. Fatelo sapere sotto nei commenti. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. L'ho costato 2 a 1, ho vinto comunque io. Buon Natale a tutti. Ezzo. Felice anno nuovo.